No, ci stiamo recando a San Siro, anzi al Meazza come specifica sempre il vicepresidente perché San Siro è un'altra cosa, il Meazza è la vera cosa. Vogliamo fare un'intervista a una vedova di Murigno che vuole lasciare una dichiarazione, uno scoop direi. Una dichiarazione spontanea. Oggi, 7 dicembre 2011, io vi dico che l'anno prossimo tornerà Murigno con Cristiano Ronaldo. Punto. 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 Fabio Massa, vai a fa' culo.